Nell'orto potete andare a piantare tranquillamente tutta la gamma delle cipolle, quindi per esempio cipolla bianca, cipollotto, cipolla dorata, cipolla rossa. Potete piantare anche l'aglio, come aglio rosso e aglio bianco. Questi bulbi che vi ho detto li trovate in vendita nelle agricole sia a bulbo che a piantine. Se comprate bulbi vi costano un po' di meno e bulbi hanno sempre una marcia in più, senza comunque nulla a togliere alle piantine che vengono comunque bene.